tante volte c'è preso il rumore su non vedo niente oddio donna prende con la scatola la perché così lontano per di indirindina sentivo sempre morla in fondo nell'angolo sopra la mia camera cos'è qualcosa ma non ci passo mica non so mica piccola non vedo un cacchio o signore è quello che che cacchio è questa cosa oddio che è non ho mai visto il vasista sono tifosi dei ragni che fa questo buco ma c'è un buco per dio aspetta ehi ma sulla schia la scomica porca più di qui pericolosissimo sto coso è non ci credo non lo sapevo lo so adesso dopo due anni e mezzo dopo uno scatolone però io l'ho appoggiato proprio insieme qui alla scala e qualcuno me l'ha spostato alla caddio anche questa roba ma perché qua io l'ho messo attaccato alla scala aspetta aspetta un casino e roba mia aspetta un attimo aspetta un attimo orecchia da di sotto e adesso bello bello oddio e ciò non c'è nessuno metto a carangiarmi faccio scivolare è caduto una padina ma c***a boh ma questa poi l'acqua a caso è boh caduto giù per la tromba delle scale ciao scendiamo anzi scendo maschino eeeh perché con la ciabatta bisogna mandare su con le scarpe antifortunistiche è saltato giù per c***o di polvere dove è il palo? ciao solaio beh adesso ho visto che non c'è nessuno una padina aspetta aspetta questa scappa che fa un casino a boione adesso piano come hanno detto senti il casin che fa aspetta eeeh ciao spero che se c'era qualcosa di sopra sia rimasto di sopra devo recuperare questo scattolone che la tv si è rotta da puttana fate la sorpresa di quel cavolo di di vetratta di come si chiama come si chiama mi sfugge vabbè ciao a tutti dovevo registrarmi che se succedeva qualcosa o cadevo cosa varia almeno c'era la prova ciao a tutti muah